Non sappiamo se sia la prima intervista con gli organi di stampa ischitani, ma certamente è la nostra prima intervista con il presidente Luigi Rapullino, presidente dell'Ischia. Nasce questa avventura, nasce con un gruppo societario nuovo. Lo vogliamo presentare, presidente? Sì, praticamente siamo un gruppo di imprenditori dove abbiamo dato seguito ad un progetto che è partito l'anno scorso, ovviamente con tutta una serie di vicissitudini che sono nate in merito comunque a un discreto, se non poco successo calcistico che è avvenuto sul campo. Abbiamo portato e stiamo portando avanti un progetto soprattutto dal punto di vista tecnico, quindi puntando su giovani, puntando comunque su ragazzi che hanno voglia e volontà di crescere dal punto di vista calcistico e quindi comunque per l'Ischia, per la nostra società, per la nostra realtà può rappresentare per loro un trampolino di lancio. Socii praticamente sono persone che comunque sono stati da diversi anni nel mondo del calcio dal punto di vista giovanile, in modo che comunque rispecchia ampiamente quello che è comunque la nostra forma mentis, cioè quella di puntare sui giovani. Parliamo comunque della struttura del centro Kennedy dei Camaldoli, parliamo di un socio che è molto vicino alla struttura di Torre del Greco che comunque punta su ragazzi ancora molto più giovani di quelli del Kennedy, quindi ci sono tutti gli ingredienti dal mio punto di vista per fare bene. Come nasce il rapporto tra Rapullino e l'Ischia Calcio? Io so che Pino Taglia la Tela è stato il primo ponte tra lei e tra la società Giallo Blu. Allora, con Pino c'è un rapporto di amicizia e di stima oramai da diversi anni, proprio per Pino con tutta la mia famiglia, in primis con mio padre e poi con me. L'anno scorso lui ci ha proposto di entrare a far parte della società dell'Ischia Calcio per tutta una serie di situazioni, ma soprattutto per quanto ci riguarda noi, non eravamo e non avevamo neanche il tempo per poter seguire un progetto così impegnativo e quindi comunque con Pino rimanemmo che in un futuro prossimo ci saremmo riseduti. E quindi così è avvenuto. Con Pino ci abbiamo ancora tutt'oggi uno splendido rapporto di amicizia, tra l'altro è una persona di calcio, è una persona che conosce benissimo questo mondo e penso che comunque un domani possa far parte del gruppo, visto che comunque è una persona anzitutto seria e nel mondo del calcio, almeno da quello che ho visto, visto che comunque più o meno ci sono nell'orbita da circa un anno e mezzo, di persone serie purtroppo ce ne sono poche. Pino taglia la tela è una di queste, una di persone serie, quindi comunque la mia capacità deve essere soprattutto quella di circondarmi di persone serie e di persone oneste. Stiamo parlando di due persone, D'Aurea e Colantonio, che in effetti dovrebbero completare il quadro con lei, con Vicky Di Bello e Lello Carlino, dico bene? No, Lello Carlino non fa parte della compagine societaria, diciamo che comunque il programma con Lello Carlino era che ci doveva accompagnare come sponsor, cosa che purtroppo, visto comunque le ultime vicissitudini che ci sono state sull'isola, per il momento Lello Carlino ha fatto un passo indietro. Non sarà neanche sponsor Lello Carlino? Ad oggi no, lui ha fatto, lui praticamente crede che ci debba essere un progetto che deve essere condiviso soprattutto dai tifosi. Carlino giustamente o ingiustamente nel momento in cui ha visto e ha notato ed è stato supportato anche dai tifosi, che per quel che ne sappia, che non hanno condiviso il nostro progetto, lui per il momento ha fatto un passo indietro. Quindi adesso abbiamo tanti obiettivi, uno sarà anche quello là di convincere Carlino a ritornare a mettere il nome delle sue aziende sulle maglie. Per quanto riguarda il discorso del progetto condiviso, di solito quando si fa un progetto che deve essere condiviso, è importante che le parti si seggano al tavolo e discutano per trovare l'accordo. Se viene proposto dall'alto è difficile che sia condiviso. Allora guardi, purtroppo a me piacerebbe che l'Ischia, la squadra, le giovanili, Beretti, Primavera, tutti si allenassero sull'isola. È il mio obiettivo e nel futuro, se avremo la possibilità, sicuramente sarà realizzato. Purtroppo quest'anno c'è un problema, così come ho anche spiegato ai tifosi, c'è un problema che dal punto di vista economico non ci consente allo stato attuale di portare già da quest'anno la squadra sull'isola. Questa è una decisione che l'hai già trovato presa oppure l'avete decisa voi con il nuovo Consiglio di Amministrazione? Allora questa qui praticamente era un programma che già c'era. Nel momento in cui mi è stato sottoposto questo programma, con le motivazioni, ripeto, quasi solo ed esclusivamente di carattere economico, anzi solo ed esclusivamente di carattere economico, l'ho dovuta condividere perché praticamente era solo questa qui la strada più corretta dal punto di vista finanziario da percorrere. Puoi dire che in effetti questo è un po' l'idea di Vicky Di Bello che dopo un anno di esperienza a Ischi ha tirato fuori queste somme? Ma diciamo che Vicky Di Bello ha fatto un'esperienza di un anno, l'ha pagata sulla sua pelle, perché ci ha rimesso tanti soldi e praticamente noi adesso il nostro obiettivo, ovviamente Vicky Di Bello da amministratore unico che era della società al CDA ha portato un programma dove ha detto signori cari se noi continuiamo così come stiamo andando avanti portando la squadra sull'isola con queste spese quasi sicuramente il prossimo campionato o dobbiamo risanarla mettendoci centinaia o centinaia di migliaia di euro oppure l'ischia corre il rischio di non iscriversi. Noi l'abbiamo valutata, abbiamo messo in conto che comunque ci potevano essere delle problematiche con i tifosi però per il bene dell'ischia, noi stiamo guardando solo ed esclusivamente il bene dell'ischia perché ho detto già anche a diverse persone e tifosi che mi sono incontrato sull'isola ho detto io l'anno prossimo non voglio nella maniera più assoluta arrivare al 30 di giugno e non sapere se la squadra si iscrive o non si iscrive. Quindi il nostro primo obiettivo è quello di creare una società sana, una società solida dal punto di vista finanziario. Poi dall'anno prossimo ci sediamo a tavolino e possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo ma una volta comunque che è creata una società solida possiamo anche ipotizzare che la società ischia possa avere una propria struttura sull'isola in modo che comunque soprattutto nei periodi che vanno da aprile a ottobre dove comunque c'è turismo ad ischia io non posso pretendere che degli imprenditori nel settore alberghiero non debbano fare business per dare le proprie strutture all'ischia sarebbe per loro un suicidio io non mi permetterei mai di chiedere una cosa del genere però l'ischia arrivato a quel punto potrebbe avere una propria struttura e un proprio quartiere generale sull'isola dove possa tranquillamente fare il suo progetto tecnico e portarlo avanti senza ovviamente chiedere il sacrificio di albergatori che sono sull'isola. In effetti va detto che l'ha avuto già un incontro con i tifosi i tifosi mi sembra che abbiano dato piena disponibilità ad accettare una permanenza solamente temporanea a Napoli nel periodo estivo oppure nel caso di grosse problematiche però nello stesso tempo avevano proposto un progetto con una partecipazione in servizi voi questa partecipazione in servizi per circa 200.000 euro l'avete presa in considerazione? Ma io personalmente partecipazione in servizi 200.000 euro non l'ho vista non è una polemica da parte mia, è nella maniera più assoluta però Spiego un attimo per sommi capi i tifosi ritenevano che potevano garantire 200.000 euro tra logistica, alloggi dei calciatori e vari servizi da offrire sul territorio anche un discorso di marketing, di pubblicità allo stadio loro sono pronti a garantire questo impegno pur di avere l'ischia sull'isola questa proposta a lei non è arrivata Ma io personalmente non l'ho vista e infatti non conosco neanche le tempistiche da quando dovrebbe ritornare a Ischia veramente non ne sono a conoscenza e di questa cosa mi dispiace noi purtroppo abbiamo un grave problema che sono i tempi noi tra 12-13 giorni la squadra deve andare in ritiro ci siamo insediati da 7-8 giorni e stiamo lavorando in una maniera che penso che neanche io altre aziende che ho rilevato e acquistato non ho mai lavorato così tanto ma nel senso che a mezzanotte di sera io sto ancora con le carte dell'ischia in mano per cercare comunque di portare avanti tutto il progetto sia societario che tecnico perché deve viaggiare a braccetto un aspetto positivo che ho avuto nell'incontro dei tifosi e che io l'ho detto anche a loro vedendo comunque con quale passione loro mi parlavano della loro squadra perché la squadra è loro noi cercheremo di gestirla nel miglior modo possibile ma la squadra comunque è dei tifosi è della gente di ischia se la squadra è dei tifosi avere qualcosa di proprio lontano non è mai bello ma guardi noi oggi purtroppo per problemi comunque di crisi economica io a volte noto che comunque ci sono delle aziende dove ci sono propri dipendenti che con contratti di solidarietà preferiscono ricevere in busta paga qualcosina in meno purché di salvaguardare il posto di lavoro e quello è un sacrificio che gli dà onore a queste persone i tifosi di ischia devono capire che purtroppo è un sacrificio che devono e dobbiamo perché anche per noi è un sacrificio perché a me tutto quest'astro che si è creato nonostante tutto poi dopo purtroppo ogni mese dobbiamo mettere mano alla tasca e metterci soldi all'interno della società e poi dopo avere anche un contrasto da parte dei tifosi da parte nostra non è il massimo della vita non vogliamo non vogliamo le statue però non vogliamo neanche che comunque dobbiamo essere criticati e dobbiamo essere ci deve essere da parte loro tutto quest'astia per il discorso di questo progetto noi fine quando che comunque ci sarò io ho preso un impegno con loro ne abbiamo fatto un progetto di cinque anni non dico che tra cinque anni la squadra ritorna sull'isola io spero che già l'anno prossimo non è una promessa però spero che già l'anno prossimo ci possano essere presupposti magari per far ritornare la squadra nel periodo invernale ad Ischia e poi dopo tra due anni almeno comunque di portarla 365 giorni l'anno sull'isola però ci devono dare il tempo di lavorare purtroppo i progetti validi nella parte iniziale richiedono dei sacrifici noi dal punto di vista economico i tifosi dal punto di vista del cuore e della passione se ci danno il tempo e possiamo e abbiamo la possibilità di poter condividere con loro questo progetto di portarlo a braccetto avanti noi da parte nostra ci sarà tutto l'impegno nel rispettare i programmi che comunque ci siamo dati e gli impegni che ci siamo dati viceversa se noi dobbiamo trovare un clima ostile e in più dobbiamo fare dei sacrifici economici significa che comunque noi dobbiamo rivedere la nostra posizione e così come ho già anche ribadito se ci sa qualcun altro sull'isola che abbia un progetto molto più valido del nostro che in questo progetto molto più valido del nostro già da subito prevede di portare la squadra sull'isola noi ci facciamo da parte ma è giusto che comunque vanno loro senza presunzione senza io per quello che è già dato non chiedo nulla indietro però se loro hanno dei progetti validi che possono portare immediatamente la squadra sull'isola che ben vengano però io nella parte iniziale di questo progetto dobbiamo essere una decina di imprenditori nel momento in cui siamo arrivati al sodo e quindi comunque il sodo significa mettere mano in tasca ne siamo rimasti in quattro e io a volte mi rendo conto che il tifoso è giusto che critica perché noi dobbiamo essere comunque anche criticati nel nostro operato però deve essere una critica costruttiva dire solo no non va bene dire no con un'alternativa ci possiamo sedere a tavola e ne parliamo l'alternativa sarebbe la loro partecipazione ai servizi ma la loro partecipazione ai servizi io per il momento ripeto non l'ho vista la loro partecipazione ai servizi prevederebbe una squadra che ritorni sull'isola ad ottobre io fino ad ottobre la squadra dove la porto non posso prendere in giro un socio che mette a disposizione una struttura che mette a disposizione una liquidità e poi dopo il mese d'ottobre mi porto la squadra a dischia non è corretto così come non è corretto dire ai tifosi Presidente che in effetti già è stato deciso questo aspetto quindi adesso bisogna guardare oltre ma ripeto per quanto riguarda il nostro progetto è stato già deciso siamo pronti a fare dieci passi indietro se ci sta un altro progetto valido noi ci facciamo da parte senza nessun tipo di problema però io devo guardare l'economicità della società e ripeto dal mio punto di vista è fondamentale che l'anno prossimo e che quest'anno l'ischia faccia un campionato tranquillo dove comunque ci possa essere una permanenza tranquilla in Lega Pro e che l'anno prossimo possiamo iniziare a gettare le basi per ambire a traguardi più prestigiosi ripeto però i traguardi più prestigiosi si possono ambire solo se c'è una società solida alle spalle altrimenti non riesce prima di parlare del progetto l'ultima parentesi sull'aspetto del rapporto con i tifosi se i tifosi decideranno di dimostrare la loro critica con pochi abbonamenti o senza abbonamenti voi che farete? ma guardi io intanto ho detto anche all'altra parte della compagina societaria che per il momento non parte la campagna abbonamenti quindi vogliamo rischiare di noi senza chiedere il supporto di tifosi dal punto di vista economico quindi attraverso gli abbonamenti la campagna abbonamenti la facciamo partire dopo quattro partite in modo che comunque loro possano dare il giusto voto a quello che comunque possa essere solo l'inizio del nostro operato non lo dico con presunzione perché dopo quattro partite ci possiamo ritrovare anche con zero punti in classifica o anche con qualche o anche con dodici punti speriamo in classifica però io siccome che comunque credo fortissimamente in questo progetto credo fortissimamente nell'allenatore che abbiamo preso perché dal mio punto di vista è il migliore che ci sta almeno in Lega Pro abbiamo preso il miglior staff il miglior allenatore della Lega Pro quindi credo e sono convinto che con giusto entusiasmo e con con delle giuste ambizioni da trasferire a questi ragazzi che scendono in campo e che possono dare il cuore e che soprattutto gli dobbiamo trasmettere l'amore verso questa squadra sono convinto che comunque buoni risultati si possono raggiungere poi i tifosi se comunque amano la loro squadra e se comunque perché poi a tutti piace vincere e quindi nel momento in cui il progetto si dimostra valido sperando che lo sarà ma io ne sono convinto spero che poi dopo loro si avvicineranno inizieranno a credere negli uomini che compongono la società e quindi pian piano si possono riavvicinare altro aspetto importante e che comunque ho detto anche ai tifosi è che vedendo la loro passione di come parlano della loro squadra io rifarei operazioni di schia altre mille volte perché diciamoci la verità se avessero accettato il passaggio sulla terraferma degli allenamenti momentaneo ripeto momentaneo non per tutta la vita momentaneo se l'avessero accettato in maniera del tutto passiva forse mi sarei anche posto una domanda ho preso una squadra che non ha tifosi invece noi abbiamo preso una squadra che ha tifosi anche se si allontano però c'ha tifosi c'ha tifosi che amano la propria squadra e quindi per noi questa qui è una spinta maggiore che ci deve far fare bene e ripeto soprattutto ci deve far lavorare in maniera seria Presidente parliamo del progetto sportivo Bitetto preso in tempo debito quasi strappato ad altre società importanti come la Juve Stabia con Bitetto quale sarà il progetto squadra? Allora guardi Bitetto non era solo la Juve Stabia ma c'era mezza Liga Pro che lo voleva e io infatti lo ringrazio che abbia sposato il nostro progetto io tecnicamente adesso inizierò ad entrare nel merito e nel vivo degli aspetti tecnici e mi affiderò comunque alla sua conoscenza nel mondo del calcio dei giovani chi l'ha portato Bitetto? mi sembra che è giunto prima di lei nell'ischiacalcio diciamo che siamo arrivati insieme Bitetto è un carissimo amico di Senese che tutti conoscete e Senese ci ha parlato di Bitetto da come me ne ha parlato e dalle informazioni che io ho preso su questa persona ripeto non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista della persona ho detto subito che comunque era una persona che andava alla grande per il nostro progetto ci siamo fatti una chiacchierata con Bitetto e dopo dieci minuti praticamente ci siamo guardati e abbiamo detto dobbiamo portare avanti insieme questo progetto e Bitetto è una di quelle persone serie nel mondo del calcio dove comunque non solo dal punto di vista tecnico possono consigliarci e possono portare avanti la nostra il nostro progetto ma anche dal punto di vista comunque societario e di relazioni sull'isola ci può dare una grossa una grossa mano Bitetto viene con il suo staff sì Bitetto viene con tutto il suo staff lunedì con lui ci mettiamo al lavoro io ho già oggi pomeriggio un incontro con il consulente con un consulente tecnico sportivo in modo che comunque iniziamo a fare un po' il punto della situazione diciamo che comunque da lunedì parte si dà l'inizio al progetto tecnico e quindi comunque ad una campagna acquisti di giocatori Basile resta come direttore sportivo Basile ne stiamo parlando ne stiamo ragionando ne stiamo valutando e quindi nei prossimi giorni decideremo con lui cosa meglio fare sempre per il bene solo della società Pino Iodice continuerà a dare il suo contributo allora guardi Pino Iodice è un uomo di calcio è un uomo che comunque ha lavorato tantissimi anni nel mondo del pallone è un uomo che comunque per quanto riguarda la burocrazia e la parte documentale penso che tra migliori che ci sono sul mercato per quanto riguarda le sue questioni personali io non entro nel merito a mi interessa solo che comunque Iodice faccia il bene dell'ischia e così come ho anche detto ai tifosi per quanto riguarda il management della società ma questo avviene un po' in tutte le aziende nel momento in cui c'è un'acquisizione si va avanti con tutte le persone che facevano parte del management poi dopo sta a me e in questo caso essendo una società calcistica starà anche un po' a quello che sarà il semaforo che ci daranno i tifosi su chi deve proseguire il percorso che noi abbiamo intrapreso su chi non dovrà seguirlo il percorso che abbiamo intrapreso quindi noi innanzitutto c'è questa forma mentis da parte mia si prende un'azienda si va avanti con lo stesso management poi dopo nel momento in cui sul campo poi dopo si valuta e poi c'erano anche una questione di tempistiche noi purtroppo nel giro di 15 giorni stiamo mettendo in piedi quello che normalmente ci si deve organizzare 6 mesi prima addirittura va ad esempio lo sponsor tecnico che è la Givova noi ieri abbiamo avuto da parte della Givova massima apertura e soprattutto massimo sostegno nel risolvere una problematica legata ai tempi tutti gli ordinativi per quanto riguarda il vestiario della squadra sono cose che vanno fatte a ottobre noi le abbiamo fatte ieri e infatti li ringrazio che nell'arco massimo di 10 giorni faranno un miracolo per farci avere tutte le attrezzature per consentire alla squadra di andare in ritiro quindi noi stiamo facendo tutto in 15 giorni e stiamo lavorando la media di 18 ore al giorno credi di una roba che non me lo sarei mai aspettato in 15 giorni la squadra è in ritiro ma quale squadra si chiedono i tifosi chi sono i calciatori che verranno confermati e quelli che in effetti si lascerà andare via ma guardi io ripeto come ho detto anche prima dell'aspetto tecnico faccio parlare i tecnici ci sarà uno staff che si occuperà dell'allestimento della squadra io gli sarò vicino mi affiderò comunque alle loro conoscenze in questo mondo e la cosa comunque la prerogativa che ci siamo dati è quella di creare una squadra di giovani una squadra composta e del mio sogno nell'80% da giocatori campani dove comunque possono avere una vetrina per poter dopo portare avanti anche i loro sogni squadra di giovani significa anche avere finanziamenti dalla Lega si parla di grosse entrate da parte dell'Ischia per la stagione appena trascorsa ma possiamo fare un po' di conti allora guarda il conto è facile tra gli introiti della Lega e quello che comunque sono i costi di gestione molto culati come quelli che stiamo facendo noi molto attenti c'è un gap di un milione noi in questo gap di un milione ci sarà la parte comunque speriamo di avere un ufficio marketing dove comunque ci possa supportare con l'aiuto di qualche sponsor e poi dopo per il resto deve essere la compagine societaria che deve risanare quel gap che ci sta tra il contributo Lega e quello che comunque sono i costi della società non stiamo parlando di una società di serie B o di serie A dove se vogliono fare un campionato discreto riescono a chiudere con un zero come risultato quindi non rimettendoci i soldi noi purtroppo le squadre di Lega Pro ci si rimette soldi noi stiamo lavorando cercando di rimetterci meno soldi possibile in modo che comunque non venga magnificato il lavoro che noi facciamo nelle nostre aziende possiamo dire che anche in quest'ottica c'è l'accordo con alcune grosse strutture di scuole calcio napoletane sì alcune grosse strutture di scuole calcio napoletane oltre a metterci a disposizione le loro strutture danno anche un contributo dal punto di vista economico ripeto parliamo del Kennedy editore del Greco editore del Greco ci supportano anche dal punto di vista economico ci danno un aiuto piccolo o grande che sia ma comunque ci danno un aiuto e ripeto Ischia in cambio comunque da la gestione del settore giovanile Ischia in cambio dalla gestione della gestione del settore giovanile coadrivata con l'Ischia non è che lo diamo in esclusiva a loro comunque loro devono dar conto ad una società e ad una ad una ad una una società che comunque ha la propria organizzazione tecnica che 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 seguirà comunque anche tutto l'aspetto del settore giovanile il settore giovanile sull'isola d'Ischia si chiudono i ponti oppure si continua a fare nella maniera più assoluta no stiamo mettendo in piedi tutta una serie comunque di accordi anche sull'isola per portare avanti anche sulla stessa isola un progetto tecnico basato sui giovani cosa che comunque nei prossimi nei prossimi giorni nelle prossime settimane verrà cioè vi verrà comunque comunicato anche attraverso una conferenza stampa che andremo a fare dove spiegheremo proprio in maniera dettagliata tutto il progetto sia societario che tecnico battuta finale lei parla di serie B come in passato l'ha fatto anche Lello Carlino Lello Carlino l'abbiamo perso io penso che dal punto di vista economico e anche imprenditoriale abbiamo perso una persona importante lei è pronto a superare i vari ostacoli che troverà sulla sua strada guardi allora noi abbiamo noi ovviamente le nostre ambizioni sono serie B e come tutti sogniamo chissà per andare dove noi rimaniamo con i piedi per terra puntiamo quest'anno a fare un campionato dove ci divertiamo puntiamo comunque ad una metà classifica in modo che comunque non avremo queste ansie e questi timori di play out poi ripeto il pallone rotondo se si riesce a trasmettere e qui abbiamo bisogno comunque anche di tifosi se noi riusciamo a trasmettere a questi ragazzi che entrano in campo il giusto entusiasmo e la giusta euforia io penso che comunque nel calcio i traguardi non ci sono cioè ci sono le ambizioni si può raggiungere qualsiasi tipo di traguardo l'importante ripeto che ci si lavora in un ambiente sano in un ambiente pulito in un ambiente dove si parla di calcio in maniera corretta soprattutto noi cercheremo di fare questo cercheremo di trasmettere ai giocatori questa nostra cultura questa nostra filosofia e poi dopo noi entreremo in campo e ce la giochiamo con tutti ce la giochiamo con tutti consapevoli delle nostre forze consapevoli che comunque possiamo ottenere dei risultati importanti con un progetto serio con un progetto che comunque nell'arco di qualche anno possiamo quantomeno dire la nostra per lottare per la serie B riguardo a Carlino Carlino è stata una persona che ha dato tantissimo all'ischia sotto tutti i punti di vista soprattutto dal punto di vista economico e si è allontanato per questo clima che si è creato noi abbiamo due obiettivi con l'ha innanzitutto di far ritornare i tifosi allo stadio e poi abbiamo l'obiettivo di far ritornare Carlino per quanto riguarda lo sponsor principale sulla maglia visto che comunque è anche un contributo economico per noi importante e oltre che comunque la competenza della persona io addirittura a Carlino gli avevo proposto la poltrona di presidenza onoraria e gliela ripropongo nuovamente e nel momento in cui ci saranno i presupposti spero che comunque li possa accettare questa mia proposta che gli è stata fatta nel momento in cui mi sono insediato Presidente comunque in bocca al lupo ne ha bisogno ne abbiamo bisogno guardi innanzitutto crepi il lupo e cerchiamo di farlo crepare insieme perché penso che solo insieme solo comunque visto che io vengo dal mondo dell'acciaio visto che comunque solo se si fanno patti d'acciaio possiamo veramente creare un qualcosa che possa essere di fantastico e meraviglioso